Giulia dobbiamo spiegare un fenomeno scientifico ci sono dei personaggi che ripongono fiducia in social night non una ma ben due volte e questo è un miracolo c'è del miracoloso e infatti sta per arrivare in puglia il 26 ottobre a bari al teatro team ma anche nel mio salento a gallipoli il 27 un divulgatore scientifico ma anche un caos di cose un amante del caos quindi il contesto giusto per parlare con lui vediamo la clip del nostro ospite sapete come un film sì ma mi devo essere distratto perché non ci ho capito niente dalla trama non so perché sono qui né come è successo com'è possibile se fosse tutto frutto del caso e non guardarmi con quella faccia ci ho capito meno di te l'universo era vuoto poi sono usciti gli atomi le molecole le molecolone primi organismi unicellulari pluricellulari trilobiti veloci raptor le tartarughe la pizza magalli e infine tu sono qui per caos uno spettacolo scientifico pochissimamente serio sull'evoluzione la casualità di tutto raccontato rigorosamente male ci vediamo a teatro pirati di questo caos ho immagazzinato magalli benissimo io tanto altro ma lo chiediamo proprio a lui barba scura che è in collegamento con noi ciao 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 ragazzi come va tutto bene benissimo vogliamo sapere cosa c'è nella tua valigia pronta per partire per la puglia a ovviamente niente io la valigia preparo un secondo prima quindi figurati se riesco a ricordarmi mutante calzini abbiamo vinto ma c'è del caos anche in quella ovviamente il caos è ovunque soprattutto dentro di me vedessi davanti a me in questo momento siamo una squadra sarebbe bello anche girare la telecamera e vedere lo faremo dopo il tuo spettacolo è solo un problema di gatti che sono in questo momento saltati sul sul tavolo quindi perfetto più caos di così si muore meraviglioso spiegaci sono qui per caos che show è è uno spettacolo a metà tra la scienza e la comicità in cui cerco di raccontare tutta la casualità della vita e il modo assolutamente randomico le contingenze cosmiche casuali che ci hanno portato a essere qui al momento quindi sono tante dalla nascita degli atomi dell'universo che non erano minimamente previsti e alla formazione delle nuove molecole fino a tutti i processi evolutivi che ci hanno portato per appunto a diventare questa strana specie bipede glabra che ora domina il pianeta e quindi se cerco un pochino di raccontare come funziona l'evoluzione la selezione naturale la selezione sessuale la selezione o meglio l'evoluzione in generale a chi magari non non ha mai studiato adeguatamente questi argomenti ovviamente uno spettacolo comunque comico quindi cerco di far ridere al riguardo devo dire si presta molto bene perché le cose che succedono là fuori sono incredibili posso chiederti di nominare ogni due per tre magalli così io capisco e immagazzino qualcosa ma magalli ma magalli yes sono a bordo quali sono le persone fisiche oltre te che hanno reso possibile questo show la costruzione di questo show beh vabbè c'ho un bel po di amici che mi hanno aiutato per carità ovviamente ci sono le persone che mi seguono i miei manager che poi sono amici che mi hanno permesso di organizzare tutto il tour ovviamente di mettere su il la parte più tecnica dello spettacolo poi c'ho tutti quegli amici poverini che si sono sorbiti le prove ovvero io che l'invito a casa e proviamo le varie parti vediamo se funziona richiedo ma che cosa ne pensi e sono stati tanti questo è uno spettacolo che comunque ho preparato nell'arco di svariati mesi e quindi come puoi immaginare c'erano veramente tante persone che hanno involontariamente partecipato al progetto anche andare a cena con me a un certo punto è diventato impegnativo diciamo anche i tuoi follower hanno contribuito scusami giuli beh sicuramente sì perché io alla fine mi baso anche su quelle che sono le curiosità e le domande che mi fanno le persone sul web ho capito che c'era un estremo interesse di affrontare determinati argomenti di rispondere a certe domande tipo una delle domande che io faccio più spesso durante lo spettacolo è nata durante le feste ma anche da tanti messaggi che ho ricevuto in privato in cui le persone mi chiedevano ma come fa quell'animale a sapere che ad esempio facendo quella cosa campa meglio che con quella colorazione simmetizza che ha quel colore che sa fare quella cosa come fa a saperlo e la risposta per me era non voglio esagerare ma era relativamente banale però mi sono reso conto che alcune cose non sono banale per niente specialmente per quelli che non le studiano queste cose e quindi ho iniziato a nascere in me il desiderio di sviluppare questo monologo e anche di far capire alle persone effettivamente che cos'è una cellula il fatto che noi siamo un condominio di esseri di tizi che muoviamo per il mondo arbitrariamente noi li comandiamo ma in pratica siamo quegli amministratori di condominio che devono cercare di farli campare e c'è tutta una storia evolutiva sul come si è arrivati a questo punto e non so è molto molto affascinante per quanto mi riguarda e nonostante queste tematiche io le conosca molto bene è estremamente divertente raccontarle mi sono reso conto che quando le racconto anche le cose che a me appaiono più banali non lo sono e lo leggo dagli sguardi delle persone quindi ho detto perfetto portiamolo in giro e raccontiamo tutte queste cose dal modo in cui dici cosa e persone si capisce che sei pugliese sei tarantino tornando al tuo lavoro anche da youtuber quando hai capito che la tua laurea in chimica perché sei uno scienziato in chimica anche un dottorato in chimica verde se non sbaglio poi ci dirai se è giusto aveva bisogno anche di un linguaggio dissacrante per essere spiegato sorte di domande giuli grazie no in realtà non l'ho mai capito è questo il punto non è nato per è nato anche questo per caso assolutamente cioè nel senso io stavo facendo ricerca ho aperto i canali social quando in realtà ero ancora uno studente di laurea specialistica e quando ho aperto i canali social era semplicemente per divertirmi uno sfogo artistico se vuoi no un cruce una qua un passatempo un hobby non chiedevo altro e c'è stato nel 2018 l'inizio di tutta questa storia quando io ho iniziato a raccontare la scienza raccontare però non la scienza che mi riguardava direttamente perché io come per l'appunto sono un chimico ho iniziato a raccontare tutte quelle cose che a me affascinavano da morire ma che non avevo avuto la possibilità di studiare dal punto di vista professionale per l'appunto tematiche come le scienze naturalistiche l'evoluzione o anche la biologia che invece si rientrava più nel mio campo io ho sfruttato sostanzialmente tutte le mie conoscenze scientifiche per essere in grado di procurarmi le fonti leggere gli articoli capire come si sviluppa diciamo una ricerca la complessità che c'è dietro tante volte a una tematica scientifica e ho iniziato a creare queste cose principalmente perché divertivano me e volevo per appunto divertirmi volevo sfogarmi volevo un hobby e poi ho visto che in realtà aveva un forte potere attrattivo verso le persone che avevano iniziato proprio a seguire con passione questo progetto e ho iniziato a mettermi più di impegno non è mai nato con l'idea che diventasse un lavoro lo è diventato involontariamente e ora eccomi qua è uno dei tuoi format tra i primi è scienza brutta noi vediamo questa clip che è una delle tue prime perle e poi torniamo insieme il capodoglio uno dei cetacei più incredibili e strani è il più grande predatore vivente del pianeta con una dimensione che può superare anche i 18 metri di lunghezza vivono in gruppi sociali estremamente organizzati e complessi e sono diffusi in tutto il mondo dai poli all'equatore basta che ci siano delle acque profonde lui sta in petta a cristo e questo perché uno dei cetacei è in grado di immergersi più in profondità in assoluto avventurandosi nell'abisso più oscuro in cerca di una preda non meno mostuosa e colossale di lui e inoltre l'animale col cervello più grande del pianeta un cervello di peso precisamente tra i 7 e i 9 kg come mai? beh si pensa che sia dovuto al tipo di interazioni sociali complesse che hanno tra di loro e soprattutto al fatto che sono predatori incazzate con delle strategie di caccia complesse che coordinano tra di loro nonostante questo diversi studi suggeriscono che comunque non sono intelligenti quanto le orche e niente non si riesce a togliere il primato a ste psicopatiche vabbè in generale i cetacei e i capodoli compresi sono mostruosamente intelligenti e si tramandano tradizioni e culture e non solo parlano tra di loro c'hanno una lingua anzi c'hanno addirittura i dialetti nell'oceano pacifico attraverso l'utilizzo di idrofoni ovvero strumenti che registrano suoni sott'acqua hanno calcolato la presenza di più di 300.000 individui e questi individui hanno mostrato dei dialetti regionali ad essere precisi sono stati trovati sette grandi clan ognuno con il suo specifico dialetto posso? vai a me è andata una domanda vai visto che devo rifarmi c'è del politically correct o delle pressioni del politically correct nella divulgazione scientifica? no diciamo che c'è ovunque però viviamo in una meravigliosa epoca in cui chiunque può pubblicare quello che vuole indipendentemente senza dover rendere conto a nessuno quindi alla fine sì il politically correct come idea esiste però devi a parte che in teoria si può dire tutto l'importante è come lo dici questa è la cosa più importante in assoluto ma te la diranno tutti quelli che fanno questo lavoro però il bello del web è che ti consente davvero di essere dissacrante e non rendere conto a nessuno io sono uno di quelli che ci fa giù pesante e non si fa mai problemi quindi è il bello di essere indipendenti non è una questione di scienza è una questione di web secondo me è ovvio che quando faccio i miei programmi televisivi faccio un po' più di attenzione però sul web sui miei canali io sono l'unico responsabile sono capo assoluto libero da da chiunque sono io che decido come vanno le clip cosa scelgo come parlo qual è il linguaggio quali sono le musiche quali sono le luci e nessuno mi può dire niente a riguardo io sarò quello che cliccherà il tasto pubblica e sarò io eventualmente che ne pagherò le conseguenze e non devo assolutamente rendere conto a nessuno in piena libertà di espressione tu scegli molte volte di associare al termine scienza o scientifico un aggettivo negativo come brutta Magalli Magalli povero Magalli Magalli è bellissimo come brutto no 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 brutta oppure penso a evolversi male secondo te c'è più attrazione da parte dell'utente nei confronti di questi ambiti mettendo aggettivi negativi non è una questione di attrazione è una questione di filosofia a me piacciono tantissimo le cose che appunto sono impreviste e non sono allora diciamo tranquillamente che in natura le cose belle sono preoccupanti non ci dovrebbe essere niente di propriamente bello anche perché il concetto di bello è un concetto puramente umano noi abbiamo un'idea di bello che è assolutamente nostra arbitraria e poi la cerchiamo anche in tutto il resto del regno animale o se vogliamo proprio della natura in generale quando la natura la bellezza frega relativamente e ovviamente il canone di bellezza è molto diverso voglio capire se un corallo è bello o meno un cinripide se è bello o meno lo decidiamo noi arbitrariamente io ho scelto di chiamare il format scienza brutta proprio perché volevo raccontare tutti quegli aspetti più inusuali grotteschi e sadici se volete della natura che poi non sono grotteschi e sadici sono grotteschi e sadici per un essere umano che li legge con un'ottica strettamente umana volevo parlare in modo estremamente libero anche di quelle tematiche su cui ho visto molto spesso si va con i piedi di piombo compreso il tema del sesso perché no perché ovviamente io parlo tantissimo di com'è gli animali o le piante o i batteri si accoppiano e si riproducono sono tematiche che molto spesso ho visto addirittura dai professori universitari trattare con le pinze facendo attenzione a non usare i termini troppo aggressivi non vedo perché quindi me lo concedo io la tratto io in questo modo e poi vabbè essendo un viaggiatore vi dico che non c'è nessuna storia da raccontare se non ti si scassa una ruota se non fai un ritardo se non va tutto storto se non c'è un disastro di mezzo se non scoppia la tempesta nel momento peggiore in assoluto se qualcuno non rischia di morire in viaggio non c'è una storia non c'è un racconto il racconto sarebbe sono partito e sono arrivato come è andato? bene punto no questa cosa è orribile noi abbiamo bisogno di qualcosa da raccontare e questa cosa da raccontare la trovi nel disagio nell'errore nell'imprevisto nello sbagliato e quindi io sono un grande veneratore di questi concetti su scassa io ho temuto per il peggio poi per fortuna abbiamo adrizzato il tiro sei classe 1987 come vivi e stai vivendo l'evoluzione di Taranto della nostra Taranto? molto bene in realtà perché ho degli amici che si occupano attivamente di rivalorizzare anche la zona vecchia Taranto vecchia che è diventata veramente un gioiellino io ricordo quando ci sono andato qualche anno fa che non era così bella era bellissima dal punto di vista sentimentale da un sacco di punti di vista anche architettonico però era ovviamente meno turistica meno curata meno vissuta anche oggi è veramente un gioiellino cioè se qualcuno ne è mai stato a Taranto vecchia ve la consiglio è veramente stupenda l'hanno rivalorizzata e c'è tanta vita anche di ragazzi l'hanno resa veramente un centro di movida se volete quindi vale la pena visitarla poi vabbè Taranto in generale l'ho vista sempre meglio in generale passando cioè man mano che passa il tempo ho visto che ci si stanno impegnando tanto per rivalorizzarla e per renderla più attraente io sono molto felice di questo perché ovviamente da Tarantino ho tantissime critiche verso la mia città come chiunque viva una città davvero quindi vederla migliorare ogni volta che torno migliorata ogni volta che torno mi rende molto felice mi ricollego alla svolta turistica di Taranto ecco c'è un altro ambito magari quello turistico in cui bisognerebbe utilizzare un linguaggio diverso dissacrante un po' come quello che utilizzi tu per divulgare diciamo che non è una formula che deve necessariamente essere questa e non è la formula corretta ci sono tantissimi modi di comunicare e di raccontare anche il territorio che possono andare benissimo in base alle circostanze di certo secondo me oggi giorno per farti notare devi avere un linguaggio un po' meno da pallo in culo si può dire no? pallo del culo sì 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 pallo si può dire pallo si può dire diciamo pallo del pulo pulo il pulo pulo del pulo un po' meno di darsi un tono di rappresentare cioè con il termine proprio pulitissimo è un po' meno è un po' più voglio dire coinvolgente un po' più particolare un po' più simpatico talvolta aiuta anche però vabbè ci sono tanti modi diversi di raccontarlo per appunto e di attrarre persone di certo oggi immagino tanti modi originali l'importante è trovarne uno originale sono sicuro che esista un altro modo originale esistono milioni lì fuori spero che investano su quelli e non su una roba un po' più sciatta buttata lì anonima Barbascurale la nostra clesidra purtroppo segna il termine del tempo a nostra disposizione è giusto un reminder per l'appuntamento di Bari e di Gallipoli noi nel frattempo ringraziamo Aurora Eventi che ha reso possibile questa intervista i biglietti sono ancora disponibili sul circuito Ticket One cosa si deve aspettare nel pubblico è caos tantissimo caos biologia comicità e caos questo è quello che vi aspetta arriviamo grazie a Barbascura per essere stato con noi e in bocca al lupo per il tuo lunghissimo tour per tutto lo stivale grazie mille grazie mille grazie ancora per avermi ospitato è sempre un piacere rivedervi ragazzi continuate così e spaccate see you soon ci vediamo Giulia anche noi siamo un po' scienziati sì un po' anche pirati abbiamo anche studiato un outfit matching mi devo andare a riposare dopo aver creato questo outfit matching per fortuna però noi ci prendiamo un piccolo break e ci vediamo domani a domani sì sempre qui canale 17 Telebari Social 9 scatucing scatucing bye ciao